Facciamogliela vedere Grazie per la visione Forse ennemie détectée Boost des moteurs activés All stations reporting with the mission of a strategic target Alerte incendie Toilet 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 Buoste dei moteur activi. L'equipe ennemie a prit l'avantage. Destroyez ennemis pulvérisés. L'equipe ennemis. Retouchez l'attaque aérienne ! Attention ! Cible repérée à cette position. Attention ! 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 Capturez questa zona. Boste dei motori, disattivate. Croiseur ennemi, distrutti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.